Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro dei miei video. Oggi l'attore in questione è Achille Coser, portiere del Binoleffe. Questo tipo di situazione è molto interessante perché tanti portieri prenderebbero gol, Coser no. Questo intervento diventa interessante soprattutto per quella che è la scelta tattica e di conseguenza strategica che Coser fa, capendo che il cross è diretto sul primo palo, quindi una traiettoria molto veloce, decide di non spostarsi e rimanere su quella della sua posizione iniziale. Guardate. Rende così più semplice quella che invece è una parata molto difficile. Ragazzi, il portiere è un ruolo fatto di tattica e scelte immediate. Se pensate di non poterla allenare, sbagliate molto. Non mi stancherò mai di dirvi che, nelle classiche esercizio, è di 11 contro 0, quando i giocatori avanzano il portiere non deve partire statico dalla rete di porta ma si deve muovere. Solo così potrete allenarvi a fare delle scelte giuste nei tempi perfetti. Qua sotto ci sono 5 passaggi fondamentali per poter replicare questo tipo di intervento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!